Con Marmiglino nel giorno della presentazione della VBC Mondovì, sensazioni e impressioni in questi primi giorni in bianco blu, per te è ovviamente importante il ritorno in provincia grande. Esatto, sensazioni buonissime perché c'è un tifo molto caldo e questo mi dà una carica incredibile, è bello avere gente che comunque ci tiene, che ti segue, fa domande, ti chiede, si interessano alla squadra e fa molto piacere. Io ritorno a giocare in patria, quindi per me è un onore e spero di riuscire a dare il 100% e fare il meglio possibile per questa città. Ecco, qual è il progetto che ti ha illustrato, comunque gli obiettivi che ti ha illustrato la società quando ti ha contattato e anche a livello personale, insomma, cosa ti aspetti da una stagione che può essere veramente importante? Sicuramente ho un peso importante perché devo andare a sostituire un centrale che tra l'altro è Parusso, che io conosco, è di Alba e è molto forte, quindi il mio compito non sarà sicuramente facile andarlo a sostituire. Quindi dovrò veramente impegnarmi al massimo per riuscire a ricoprire un posto così importante. Spero di farcelo, insomma. Ultima cosa, per la VBC Mondovì è quasi un anno zero questo qui, hai accennato appunto di giocatori importanti che vanno via, un progetto tecnico nuovo. Quali possono essere le insidie anche considerando il valore del campionato? I insidie spero non ce ne siano, quindi sono molto positivo, è un progetto fondato sul lavoro, quindi io di questo ne sono stra-contento perché sono dell'idea che se c'è il lavoro ci saranno sicuramente dei risultati. Quindi sono positivo e spero che riusciremo a toglierci grosse soddisfazioni.